Sono abbastanza importanti. Andiamo dalla nostra collega Marco Cristina Conforti, che io vedo collegata, perché continuiamo a parlare del comparto agroalimentare. Ciao Cristina, buongiorno. Con chi sei? Dove sei? Buongiorno Monica, buongiorno Marco. Siamo su un campo seminato a grano, qui a Sassello, in provincia di Savona, nell'azienda agricola, che Francesco Romano e i suoi figli portano avanti, Francesco da tre generazioni, adesso speri che i tuoi figli proseguano, ma mi dicevi, e ascoltavamo il vostro dibattito e studio, che i costi davvero sono insostenibili. Abbiamo fatto uno schema con te, ti ho costretto a farlo. Elencaci appunto questi aumenti. Intanto vediamo il trattore che si muove, le nostre spalle. No, l'aumento è stato su tutto. Faccio l'esempio, il carburante agricolo agevolato da 70 centesimi, che era nel 2020, adesso lo paghiamo un euro. La luce, abbiamo avuto un aumento del 30%. La luce a te serve, diciamola, anche in tante situazioni della tua attività. La luce a noi serve in tutto, serve nell'allevamento, serve per fare i mangimi, per macinare, per pulire la stalla, serve in tutto in agriturismo. Noi abbiamo un aumento di 2 o 3 mila euro all'anno, solamente sulla luce. E poi ci sono i mangimi, i concimi che dovete utilizzare. Sì, sì, è aumentato una proporzione dai 30 ai 40% su tutto. Qualche prodotto addirittura, specialmente nei concimi, che va già bene che noi diamo solo all'etame, era anche raddoppiato. E dunque in un anno, in un anno cosa è accaduto, è calcolato? In un anno a noi abbiamo avuto una perdita più o meno di 12-13 mila euro di costi di materie prime. Materie prime, energia. Dunque, una situazione molto, molto pesante. Vi restituisco la linea, se non avete domande. Ricordiamo da Cristina. Chiedo però alla nostra regista se può mandare il cartello, che era quello che riguardava gli interventi in bolletta che sono stati previsti dal decreto di venerdì scorso. Cristina, io volevo chiedere al tuo ospite, siccome stiamo parlando dei costi della riconversione green, voglio capire a che punto è l'azienda del signor Francesco da questo punto di vista? E che costi ha dovuto affrontare se ha le risorse per farlo? Noi cosa abbiamo dovuto affrontare? Abbiamo dovuto affrontare che abbiamo meno entrate, abbiamo meno vendite, abbiamo fatto degli investimenti importanti nelle aziende, le stalle, vero? Due stalle nuove, abbiamo fatto due piani da 500 mila euro l'uno. Adesso ci troviamo a pagare in mutui con poche entrate. Abbiamo avuto due anni di Covid, adesso abbiamo la peste su Ina, che ci blocca tutta l'economia dell'entroterra, perché siamo bloccati, la gente non può andare a passeggio, non viene in agriturismo, non viene a comprare la carne, siamo paralizzati in tutto. Esatto, perché questo adesso è l'allarme qui nella zona, no? Proprio quello della peste su Ina, che ha coinvolto 114 comuni. Come se non bastasse tutto quello che avevamo. Grazie, grazie davvero.